Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È uscito nei giorni scorsi su Il Manifesto un interessante articolo in cui si ascolta finalmente la voce di Pechino, la voce della Cina di Xi Jinping, che ormai è una potenza mondiale non solo sul piano economico ma anche geopolitico, militare, politico. Ebbene, la Cina di Xi Jinping, che nei giorni scorsi peraltro ha anche rampognato la Nato dicendo che deve smetterla di fomentare il conflitto, la Cina di Xi Jinping, dicevo, ha detto, così leggo sul manifesto, che l'Occidente liberale atlantista deve astenersi dal portare il caos in Asia. La Cina di Xi Jinping sa benissimo, infatti, che dopo la Russia sarà la volta della Cina stessa, rea quanto la Russia di non genuflettersi al nuovo ordine mondiale liberale atlantista. La Cina, infatti, sta svolgendo una magnifica funzione di resistenza all'imperialismo della civiltà del dollaro e dell'Occidente, che già da tempo ho proposto di definire l'Occidente, così nel mio libro Globalizzazione, e dunque la Cina sta svolgendo, dicevo, una magnifica parte di resistenza, ma poi anche di generazione di un mondo multipolare, sottratto all'imperialismo degli Stati Uniti d'America, che, con le parole di Bill Clinton, 1997, ebbero a definirsi l'unica nazione indispensabile. Ecco perché, come non mi stanco di sottolineare ad nauseum, abbiamo bisogno più che mai di una Cina forte, indipendente, sovrana, in grado di contrastare il delirio di onnipotenza imperialistico della civiltà dell'hamburger.